La famosa travel blogger Francesca Barbieri, conosciuta sul web con il nome di Fraintesa, è morta a soli 38 anni, stroncata da un tumore al seno contro cui lottava da tempo. È stato il fidanzato Andrea a rendere nota la triste notizia sulla pagina Facebook della ragazza. Oggi Fraintesa ci ha lasciato, nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione. In questi anni siete stati la sua forza, la sua spinta. Pian piano, man mano che il tumore avanzava, malgrado 5 cicli di chemio, ha lasciato gli impegni lavorativi per dedicarsi solo a voi, si legge nel messaggio. Nell'ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era Save Your Tears for Another Day ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi sorridere più che piangere. Francesca è stato un dono per chiunque l'abbia conosciuta, anche solo virtualmente. Francesca è stata un dono per chiunque l'abbia conosciuta, anche solo virtualmente. Allingh electo Allingh 아니 Allingh have Allingh Grazie a tutti.